Allora, ciao ragazzi, buonasera a tutti, Lambre Nedetto. Ogni tanto leggo qualche messaggio che la gente mi scrive, mi ha scritto un ragazzo sui 40 anni, mi ha detto che ha circa 48, 38 per la precisione, e mi ha scritto una lettera dicendo, Lambre, guarda, io ho iniziato a lavorare a 18 anni, sono 20 anni che lavoro, essendo un po', diciamo, una cicala sono riuscito a metter via circa 100.000 euro di risparmio. È possibile secondo te poter smettere di lavorare avendo una cifra del genere ed essendo io uno abbastanza risparmioso? Cioè il mio sogno sarebbe comunque di poter smettere di lavorare e non dover arrivare fino all'età della pensione. Allora, ti rispondo su questo quesito che tu mi hai fatto. Allora, quando una persona, io conosco gente che per esempio non ha mai lavorato in vita sua, ti dico subito che quando tu inizi a entrare al lavoro, specialmente se hai 18-20 anni, cioè se entri nel mercato del lavoro, inizi a lavorare, è praticamente impossibile poter smettere di lavorare. Cioè praticamente lo definisco, non dico impossibile, ma la porta per uscire dal mondo del lavoro per non lavorare più e smettere di lavorare è proprio una cosa difficile. Poi ti spiegherò dopo, perché anche se ti dico che comunque si può fare. Allora, però ti dico che se tu... Io non so la tua condizione per me, hai detto ho 38 anni, non so se tu hai una fidanzata, se hai dei figli, se sei sposato, eccetera, eccetera. Allora, se hai dei figli, scordatelo subito. Cioè, se tu hai dei figli e la tua situazione è di questi risparmi, scordati il fatto che tu smetterai di lavorare, tu non smetterai mai di lavorare. Se hai dei figli, se hai una moglie, se hai delle situazioni comunque, non dico di mutui, ma se hai dei figli, hai delle responsabilità. Allora, potresti smettere di lavorare, prendere questa decisione, lavorare per arrivare a questa decisione, solo ed esclusivamente se, punto uno, pensi di andare via dall'Italia, perché con il costo della vita che abbiamo in Italia, ma penso solamente al fatto anche di vivere in condizioni comunque in cui luce, gas, riscaldamento, eccetera, eccetera. Cioè, devi pensare prima di tutto andare in un paese dove comunque hai sicuramente un costo della vita minore, ma soprattutto questa decisione fondamentale la puoi prendere solo ed esclusivamente se sei solo tu e decidi tu, perché se inizi ad avere figli, moglie, compagnia varia, smettere di lavorare è impossibile, impossibile. Chi non lavora, chi ha la fortuna, fortuna, di non lavorare è perché nella vita non ha mai lavorato, non ha mai cominciato a lavorare, perché ha la fortuna di aver avuto dei lasciti, ha avuto la fortuna di poter aver ereditato qualcosa, oppure ricco di famiglia, oppure perché nel Lazzarun, vabbè. Però diciamo che se tu vuoi smettere di lavorare oggi come oggi, centomila euro secondo me sono pochi e smettere di lavorare, amico mio, vuol dire alzarsi alla mattina, fare un po' di palestra, una camminata, una corsetta, andare a pescare, passare la giornata in pieno relax. Smettere di lavorare vuol dire non lavorare più. Se il tuo obiettivo è di smettere di lavorare, ti dico che dal mio punto di vista secondo me centomila euro che tu hai risparmiato sono pochi. Sono pochi perché oggi come oggi si stanno aprendo delle grandi opportunità, però secondo me dovresti averne almeno 200 mila. Poi non so se tu magari hai centomila perché hai lavorato di risparmi, c'hai una casa di proprietà che non lo so, magari ti hanno lasciato i genitori, non lo so. Se riesci magari vendendo ad arrivare a 200 mila ti dico che sì, lo puoi fare. Se sei uno che ha iniziato a fare un po' di autoproduzione, io ho appena per esempio iniziato, dovrò fare un video, ragazzi i pomodori stanno venendo su bene anche i cetrioli. Se comunque sei uno che fa un po' di autoproduzione, se sei uno da quello che ho capito che non sei uno che comunque spende la vita tantissimo e quindi ti sei abituato a vivere con 300-400 euro al mese, se sei uno risparmiatore ti dico che oggi come io stavo guardando per esempio nella zona bassa della comunità valenziana, un posto dove quindi climaticamente non hai neanche bisogno di tantissimo riscaldamento, nella zona di Torreveca dove hanno costruito tantissimo quando c'è stato il boom del 2008, è pieno Zeppo, ci saranno più di 200 appartamenti a differenza delle Canarie che ho visto che è assurdo lì, scordiamoci le Canarie, sono dei pazzi a pretendere quei prezzi lì col cazzo, uno che prende secondo me più di 50 mila euro un appartamento, le Canarie folle e forse magari tra un po' di anni crolleranno, non lo so, vediamo un po' come la situazione turistica, beh la situazione immobiliare, però per esempio nella zona di Torreveca, quella zona che va comunque da sotto San Pola, cioè quella zona che va sotto da Alicante fino ad arrivare a Torreveca, il Shea e tutte quelle zone lì sono bellissime, meravigliose, a Torreveca che è un posto di mare bellissimo, vendono, ci sono più di 200 appartamenti a 40 mila euro, appartamenti di 30, 35, degli studio e se tu hai 200 mila euro e dici mi prendo due appartamenti quindi spendo 80 mila euro e mi rimangono 120 mila euro e di quei 120 mila euro lì ti prendi magari poco fuori in quella zona lì che comunque va diciamo, da Mursia fino ad arrivare ad Alicante, quindi non è che è una zona che è molto costosa, se tu in quella zona lì appena fuori ti prendi una finca, quindi un piccolo qualcosina diciamo in qualche paesino un po' fuori, lo trovi, puoi trovare sicuramente qualcosa anche con un terreno a 50 mila euro, quindi stiamo parlando di due appartamenti che hai comprato a 80 mila, 50 mila ti sei preso la tua posto dove poter dormire, 6 a 80 più 50 130 mila euro, quindi hai investito 130 mila euro per stare dove, per stare te, due appartamenti che puoi affittare e tieniti comunque 70 mila euro comunque di scorta di sicurezza, perché? Perché così ti puoi prendere il tuo appartamentino, ti coltivi qualcosa, qualche pomodoro, qualcosa per poter comunque fare un po' di autoproduzione, ti mangi un po' di riso, una scatoletta, affitti i tuoi due appartamenti ma anche a 300 euro al mese li puoi affittare e hai i tuoi 600-700 euro al mese che comunque lì costa la vita, è forse la metà rispetto da noi e quindi con 500 euro lì poi comunque ti puoi pagare comunque il riscaldamento, ti puoi comunque magari pagare il pieno della benzina, ti prendi un appunto scassata e giusto per fare un pochino la spesa per le cose che ti mancano e poi tranquillamente di metterti, vivere di rendita fino a quando poi sei lavorato più di 20 anni, mi pare che dopo 20 anni poi devi lavorare almeno 20 anni, metti questa cosa in mente di farla dopo 25 anni comunque potrai prenderti la pensione quando raggiungerai cosa sono i 65-67 quindi per dirti 20 anni li puoi tranquillamente fare così, hai i due appartamenti che affitti, hai la tua piccola finca, la tua piccola non so è anche tipo finca io intendo un appartamentino diciamo una specie di di rustico per dirti con un pochettino di terreno quindi ma anche se ne spendessi so 70-80 mila giusto per avere un pochettino di terreno per farti autoproduzione potresti anche spenderne di meno a questo punto prendi un appartamento, un monolocale ti prendi una monolocale ho visto che a 30 mila appena fuori la zona del C sotto di lì con 30 mila ti prende anche i bilocali quindi una volta che hai preso due appartamenti a 40 non hai voglia di fare autoproduzione non ci voglia neanche di sbattermi vuoi veramente smettere di lavorare totalmente ti metti a lì hai quando hai investito 80 più 30 del tuo appartamento 110 vuoi prenderti tre appartamenti e prenditi tre appartamenti a 40 mila ce ne sono 200 in offerta mettiti tre appartamenti in affitto magari ogni tanto qualcuno non lo stai affittando però con quei due tre appartamenti in affitto ci vivi ragazzo cioè lì ci puoi tranquillamente vivere però per fare una scelta così di smettere di lavorare l'hanno fatta veramente penso sulla punta delle dita perché chi inizia nel mondo del lavoro è difficile che puoi smettere di lavorare questa è una scelta veramente di poter smettere di lavorare che veramente poche persone penso magari 2 3 5 l'avranno fatta la loro vita in italia perché smettere totalmente vuol dire smettere di lavorare cioè arrivo a 40 45 anni ho accumulato 8 soldi smetto di lavorare per smetti di lavorare devi avere una rendita una rendita fissa c'è invece gente che per esempio io conosco tante situazioni che hanno deciso invece a differenza tua che da quello che ho capito lavoro in fabbrica quindi ti fa le tue 8 9 10 ore di lavoro per esempio io conosco tante persone che stanno le canarie perché fanno i blogger fanno gli scrittori c'è tante persone che conosco che per esempio hanno deciso non di smettere di lavorare ma di cambiare lavoro ok quindi magari prima facevano tutt'altro e arrivati a 35 40 anni perché hanno comunque messo via un po di soldi hanno comunque risparmiato hanno rischiato tra virgolette di cambiare stile di vita che è stato quello comunque di cambiare lavoro quindi ci sono delle persone che non hanno mai smesso di lavorare ma hanno cambiato lavoro io ho amici che prima oggi anche dei blogger famosi che stanno 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 quasi tutti nella zona canaria perché comunque hanno aperto poi delle attività e quindi lì le tassazioni comunque sono basse hanno un clima anche molti smart worker lavorano lì così alle canarie e conosco gente che ha cambiato lavoro non ha smesso di lavorare assolutamente ma ha cambiato lavoro quindi ha iniziato a guadagnare soldi facendo un altro tipo di lavoro ha iniziato a fare il blogger scrivendo aprendo un blog conosco gente alle canarie che hanno aperto anche canali youtube e quindi sono messi a fare i bloggeri youtube gli scrittori ce ne conosco ne conosco almeno almeno tre alle canarie uno fa lo scrittore per delle riviste internazionali un altro scrive a un blog uno dei più famosi in italia di una pagina famosissima con un paio di milioni di like un altro ce n'ha 7 800 mila ne conosco diversi tutti diciamo che tutte quelle pagine che voi leggete anche perché fra noi diciamo ci si conosce un po tutti quindi li conosco questi voi non sapete chi c'è di dietro però vi dico che dietro queste pagine ci sono dei blogger che vivono avendo cambiato mestiere scrivendo alcuni scrivono anche dei libri alcuni fanno solo il blogger altri fanno il blogger fanno lo youtuber fanno hanno dei canali youtube cioè c'è gente che ha cambiato conosco gente che faceva certi tipi di lavoro ha iniziato a fare lo scrittore e il tatuatore ad esempio c'è gente che ha cambiato mestiere non hanno mai smesso di lavorare però hanno cambiato modo di lavorare diciamo che smetti di lavorare è praticamente impossibile sai della famiglia dei figli roba lo puoi fare solo ed esclusivamente se sei solo per i cazzi tuoi ma deve essere veramente una scelta che dove dietro hai comunque sicuramente il capitale e non hai altre persone con cui comunque tu ti devi relazionare nel senso che comunque ragazzi se tu devi hai dei figli compagnia varia la pagnotta te la devi portare a casa quindi se uno sta per i cazzi suoi può anche dire vabbè una volta che mangio io sono contento però questa scelta la potresti fare con un capitale del genere prendendo degli appartamenti in affitto però altrimenti se non so come cazzo darti consigli per comunque avere una rendita fissa ho detto l'occasione che puoi avere è quella di poter cambiare può cambiare il tipo di lavoro trovare magari un lavoro più leggero però sempre di lavoro si tratta quindi di smettere di lavorare la vedo molto dura a meno che tu puoi fare anche questo tipo di scelta che purtroppo in Italia a differenza della Germania che ti permette tante queste situazioni ma anche in Svizzera paesi un po' più evoluti come la Svizzia è quello di ho raggiunto una tranquillità economica tu dici che comunque hai messo via un po' di risparmi da quello che ho capito probabilmente è la casa di proprietà da quello che penso tu mi abbia scritto non hai figli non lo so comunque se hai raggiunto una situazione del genere potresti anche pensare l'opzione di poter magari lavorare part time quindi non è smettere di lavorare ma poter diciamo avere più ore a tua disposizione un part time di 4-5 ore che comunque ti fa guadagnare di meno però comunque è molto più tempo libero da poter gestire per te stesso io questi qua sono i consigli che penso di darti se vuoi smettere di lavorare secondo me raggiunto una certa diciamo quantitativo di soldi puoi vivere comunque di affitti cioè di rendita che poi se vai a guardare ti dico una cosa per esempio io sto guardando anche nelle mie zone native che sono queste se io mi guardo in giro nei paesi diciamo scendendo verso di lì quindi sul fiume guarda che in questo momento ci sono moltissime opportunità forse per la crisi di case che vendono di bilocali che vendono a 50 mila anche a 45 riesci a trovare monolocali bilocali che sono quelli che poi riesci più ad affittare velocemente quindi potresti poi magari affittare a qualcuno che comunque sei sicuro che ti paga non so qualche professore in trasferta qualcuno che magari lavora qui nello stato e quindi comunque ti può pagare tranquillamente poi il problema grave è quello comunque che una volta che comunque hai acquistato questi appartamenti quindi magari con 150 mila euro riesci a prenderti tre appartamentini li metti in affitto e con quei soldi li puoi andare a vivertene non ne so vai a viverti ad Alicante vai a vivere alle Canarie vai a vivere in Albania che costa poco non lo so vai a vivere in Romania vai a vivere nel Caucaso però per dirti il vero problema è quando poi li affitti che devi avere non dico la fortuna però il fatto che una volta che li hai affittati che l'inquilino comunque ti continui a pagare certo che se tu hai via adesso cento rotti mila se hai una casa di proprietà e la vendi e riesci a farci dei soldi se fai degli acquisti ti ripeto o in Spagna o in Italia che ti compri qualche appartamento a basso prezzo ti ripeto guarda che ci sono un mare di appartamenti che puoi trovare comunque attorno ai 50 mila oggi non nelle grandi città e poi se li affitti e comunque riesci avere un paio di appartamenti tra appartamenti in affitto riesci sicuramente a poter vivere di affitti e quindi vivere senza lavorare io ti consiglierei comunque da quello che ho capito di affinare un po più le tecniche di risparmio di poter vivere sempre comunque diciamo facendo un po di autoproduzione e l'idea di poter acquisire una reddito diciamo da questo non è male 38 anni sei ancora giovane secondo me per poter diciamo pensare di smettere lavorare però se comunque sei uno che non spende tanto e arrivi a 50 anni dove comunque sei riuscito a risparmiare ancora un po di soldi io a questo punto ti dico fai ancora uno sforzo 12 13 anni mettiti via un po di soldi hai lavorato quasi 30 anni quindi comunque prima o poi la pensione la prenderai allora a questo punto qui puoi prenderti questa decisione certo che se gli immobili in questo momento diventano interessanti perché la situazione di crisi è forte sicuramente potresti pensare di fare uno o due acquisti immobiliari magari dove ho detto io in quella zona lì diciamo sotto Alicante che i prezzi sono buoni e poter comunque continuare a lavorare per poi poi un giorno decidere di smettere di lavorare ma se decidi di smettere di lavorare amico mio se vuoi veramente smettere di lavorare non ti devi sposare non deve avere cazzi non deve avere famiglie compagnia varia perché se decidi di avere figli smettere di lavorare è impossibile al massimo potrei cambiare mestiere al massimo forse potrei andare a fare il part time ma smettere di lavorare con la famiglia e con i cazzi la vedo molto molto dura chi ha smesso veramente di lavorare è perché non ha mai lavorato perché ha avuto la fortuna della vita di nascere diciamo con la camicia o perché l'è lazzaro e quindi